E' una rarità quella, possiamo ricavarne una bella cifra. E' una rarità. Raff, sei la nostra rovina. Per causa tu avremo sempre addosso i cacciatori. Non è possibile continuare in questo modo, lo sai, vero? Si, la vergogna della nostra razza, Raff, ecco. Si, sei proprio brutto. Più brutto di un pipistrello. Non è vero, non sono brutto, no. E sei anche violento. Diamone una lezione, amici. Forza. Ma laggiù si ammazzano, interveniamo? No, Rune, non sono affari nostri. Io non resisto, papà. Smettetela! Basta! Ehi, la volete finire? Basta, fermatevi, basta! Ti prego! Hai visto, figliolo? Avrebbe potuto ucciderti con quel calcio. Ascolta bene. Il loro punto debole è il collo. Va bene, papà. Lasciami, lasciami! E tu, fermati! Non mordere! Basta! Fermati! Vattene via! Fermo! Non mordermi! Fermo! Che figura, Raff? Hai paura di un leoncino come quello? Sei la nostra vergogna! Ma che cosa vi ha fatto di male, eh? La volete smettere? Capito? Sono come voi io, come voi! Sono una giraffa! Ora basta, finiscila! Non fare così, Raff! Cerca di controllarti. Grazie, Leo. Sei davvero un caro amico. È tutta colpa di quel cretino. È diverso da noi, no? Con tutte quelle strane strisce. Sa solo strillare quel matto, grazie anche a te, Rune. Sei stato bravo. Hai fatto un buon lavoro. Veramente. Non hai sentito come strillava quell'imbecille, è vero? Aspetta, Raff! Che cosa vuoi? Ecco, io volevo che... Che cosa? Parla! Beh, io volevo chiederti scusa per averti trattato in quel modo. Non credevo che tu fossi un violento. È la verità. Sono un violento e un pazzo, io. No, aspettami, Raff! E non andartene! Ti puoi fermare, insomma? Fermati, Raff! Sì, sono pazzo! Pazzo da legare, guarda! Hai mai visto un pazzo più pazzo di me? Ti prego, Raff, smettila! Ti capisco, sai, anch'io al tuo posto farei così. Eh? Cos'è? È buio, meglio fermarci. No, ci si vede ancora. Voglio sbrigarmi a catturare quella giraffa. Guarda! Che cosa vuoi fare, Raff? Viene verso di noi. No, Raff, non andare, no! Fermati! Vattene e lasciami! Scappa, Raff! Ti uccideranno! Non ho paura di nessuno, io! Guarda, il piccolo leone bianco. Ora dire che prenderemo anche lui. Questo è grosso! Oh no, fuggiamo! Presto! Indubito! Grazie, papà. Ascolta, Raff. Tu devi smetterla di fare il violento. Hai un carattere davvero impossibile. Devi cambiare, devi calmarti o finirai male. Che caratteraccio! Non è vero! Se Raff è così, la colpa è degli altri che lo stuzzicano. Però non deve prendersela in quel modo. In fondo scherzano. Ormai è grande e deve imparare anche a controllarsi. Lo hai trattato un pochino male, papà. E la prossima volta sarò ancora più severo. Ma siete tutti contro di lui? Che cosa ha fatto di male lui? Entro domani dobbiamo catturare quella giraffa, capito? E naturalmente quei due leoni. Tre rarità che ci pagheranno a peso d'oro, amico. Accidenti, sono di nuovo qui. È tutto per colpa di quella giraffa. Ci siamo. Non vedo però la giraffa pregiata. Speriamo che non sia fuggita nella giungla. Sarà quinto. Tu dici? Ma certo. Eccoli! Aiuto! Aiuto, aspettate! No! La voglio! Aiuto i cacciatori, aiuto! Non ce la faccio! Aiuto! Povero me! Arrivo a cielo. Guarda! È proprio una bestia stupenda. Non c'è che dire. Sì. E cos'hai? Oh! Oh! Carole, non abbandonarmi. Ti prego. Avanti, alzati. Dobbiamo andare nella giungla. Ma scusa, papà. Non dobbiamo salvare, Raph. Più tardi, più tardi. Ora bisogna pensare a tutti gli altri, Rune. Andrò a salvarlo io, ecco. È inutile che ti agiti, sai? Raph, arrivo! Eccomi, Raph! Coraggio! Ma solo a volte... che sia già morto! Oh! Non vi azzardate a toccare il mio amico, capito? Via! Ma, redizione, quella giraffa non è morta. Io te l'avevo detto che non pulsava abbastanza. Che cosa? Io pulso? No, Raph. Stai un po' calmo. Dov'è che sei ferito? Al collo. Ho urtato cadendo. Senti, vado subito a cercare il mio babbo, vedrai. Ti farà bene alla ferita. Tu sei in pericolo. Però, però strilla forte, capito? Sì? Sì, 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 certo, certo, va bene. E così posso andare, eh? Che caro. È proprio un amico. Rune è un vero amico. Ho un amico, finalmente. Ah, Rune. Rune. Oh, oh, Rune. Rune. Oh, 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 oh. Va via! Quella giraffa appartiene a noi. È da tanto tempo che aspettiamo la sua morte. Vattene via! Ma quando è che muore? E chi lo sa? Se ti fa un'idea, tu che ne dici di mandarla ancora viva? Non ho un'idea anch'io, mio caro. Senti, eh? Ma se vuole capire... Ecco, qui andrà bene, eh? Raff! 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 Oh, no, è sparito! Raff! 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 Maledetti iene! Aio! 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 Vieni qui! È ancora vivo. Acqua. Un po' d'acqua. Presto. Oh, sì. Acqua. Acqua. Non c'è, dovrò andare nella giungla. Non l'avrete mai, brutto e iene. Avete capito? Raff, ti prego, non morire. Alzati, dobbiamo andare via di qui. No. Non morire, Raff. Non devi morire. Non devi, non devi, non devi. Non devi. L'acqua è nella giungla. Avanti, Raff. Fa l'ultimo sforzo. Ti supplico non morire. Devi vivere. Così giovane, Raff. Forza, Raff. Sbrigati, siamo quasi arrivati. Raff! Salve, Rone. Ascoltate tutti, Raff è morto. Ed è vostro dovere seppellirlo, ecco. Uffa, che strazio, quel Raff. E adesso noi dovremo anche preoccuparci della sua sepoltura. Ma non ti vergogni di parlare in quel modo, Gil? Va bene, farò da solo. Che schifosi ed egoisti. Ma perché mio padre li difende sempre? Povero Raff, quanto mi addolora la tua morte. Dovrebbe essere da queste parti. No, per me è nella giungla. Guarda, le giroppe. Di nuovo loro, eh? Fuggiamo, ci uccideranno. Pronti al mio segnale? Carica! Accelera, che voglio divertirvi. Oh, no! No! Che succede? Chi è che sta sparando? Aiutaci, Leo! Calma e seguitemi! Guarda laggiù! Maledizione! Il leone bianco ha ucciso la nostra preziosa giraffa! Cosa? 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 Per un po' resterete qui. Grazie infinite, Leo. Dimmi, G, l'hai visto per caso il mio rune, eh? Sì, ha detto che Raph è stato ucciso. Temi per lui, vero, Leo? Ma che cosa dici? Rune è in gamba. Non è mica come quello sciocco di Raph. Puoi paragonare un leone a quella specie di giraffa. La piantola ha cercato di salvarti la vita una volta. Pensa quanto era stupido. Fermi! Posto così è una vergogna parlare di un... No, 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 ti prego, perdonami. G, il guai a te se ti permetti ancora di parlare male di quel poveretto. Rune! Rune! Sei in gamba, eh? Ma questa volta ti faccio segno. Ma quello è il padre! Fuggiamo! 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 Via! Qui siamo al sicuro. E ora lo sistemo io, quell'infame. Troverò una posizione migliore, caroglia. Ma che è succede? Aiuto! 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 Che sta succedendo? Guarda, papà! Le iene vogliono mancare, Raph! Andate via di qui, voi! Dovremmo essere in salvo ormai! Aiuto! 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 Addio, Raph. Riposa in pace, amico mio. Non ti dimenticherò mai. Raph, perdonami. Anch'io non ti avevo capito. Non ti avevo capito.